Anticipazioni puntate italiane Tempeste d'amore, bacio inaspettato per Rosalie e Christoph. Qualcosa di assolutamente inaspettato sta per stravolgere le vite di molti personaggi al Furstehof. Nelle prossime puntate italiane di Tempeste d'amore tra Christoph Saoffel de Rosalie e Engel ci sarà infatti un avvicinamento molto pericoloso. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete4. Tempeste d'amore, anticipazioni puntate italiane, Rosalie in debito con Christoph. Da quando Rosalie è tornata al Furstehof decidendo di buttarsi nella carriera politica, un uomo le ha sempre reso la vita difficile, Christoph. Suo rivale nella campagna elettorale per il posto di consigliere regionale, Saoffeld ha infatti fatto una guerra aspettata alla Engel, arrivando ad usare contro di lei i mezzi più scorretti. Tutto ciò, però, sembra ormai appartenere al passato. Quando si è trovata in difficoltà economiche, la donna si è infatti rivolta proprio all'albergatore, arrivando a stringere con lui un patto di dubbio gusto, Rosalie avrebbe ricevuto ben 5.000 euro se, in cambio, avesse usato il proprio fascino per convincere un imprenditore spagnolo di nome Rafael Gomez a vendere a Christoph i suoi hotel. Ebbene, come sappiamo alla fine l'affare non è andato in porto proprio per colpa della Engel, ma quest'ultima ha a sorpresa comunque ottenuto il prestito, dovendo però firmare una cambiale a Saoffeld? Una situazione che diventerà presto esplosiva. Spoiler Tempeste d'amore, news italiane, Christoph bacia Rosalie. Mentre Rosalie cercherà dei modi per ripagare al più presto il suo debito, Michael scoprirà casualmente il documento firmato dalla fidanzata e penserà bene di intervenire, offrendosi di saldare i debiti della compagna. Su richiesta della Engel, però, Christoph non solo non accetterà i soldi del medico, ma farà anche credere a quest'ultimo che in realtà la donna gli abbia da tempo reso il denaro. E non è finita qui. Mostrando un'inaspettata magnanimità, Saoffeld appoggerà anche un costoso progetto propostogli dalla sua ex rivale in politica, proporre ai clienti del Furstehof una selezione di whisky molto pregiati. E la sua non sarà una decisione basata su motivazioni di natura puramente economica. Poco dopo, Christoph inviterà infatti Rosalie ad una degustazione privata di whisky nella cantina del Furstehof e lei, complice la delusione per il comportamento di Michael, accetterà. Ebbene, in tale occasione i due si avvicineranno ulteriormente al punto che tra loro scatterà un bacio appassionato. E a quel punto nulla sarà più come anticipazioni puntate italiane Tempeste d'amore, bacio inaspettato per Rosalie e Christoph. Qualcosa di assolutamente inaspettato sta per stravolgere le vite di molti personaggi al Furstehof. Nelle prossime puntate italiane di Tempeste d'amore tra Christoph, Saoffeld e Rosalie Engel ci sarà infatti un avvicinamento molto pericoloso. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete4.